Io sono Donatella Scandini, lei è mia sorella Elisa, siamo le titolari dell'agriturismo Cioilonghi di Montegrosso Pianlatte. La nostra attività è nata nel 2007 come attività agrituristica e nel 2004 come attività agricola. La nostra azienda si incentra principalmente sulle culture di alta montagna, quindi patate, porri, cavoli, un po' di ortofrutta in generale che viene spontanea in queste zone, in questa fascia. E poi abbiamo aggiunto appunto nel 2007 anche l'aspetto dell'ospitalità con questo agriturismo. L'agriturismo si compone in una sala ristorante e poi abbiamo quattro camere, così riusciamo anche a accogliere la gente che viene fuori anche dalla regione, perché questa zona comincia a essere apprezzata anche fuori regione. Grazie.